Allora, questa iniziativa nasce per l'amore ovviamente della nostra città di Roseto e per l'amore dello sport di me, mio fratello e di tutta la mia famiglia. Quindi abbiamo deciso di fare, dopo l'evento di Totti, un altro evento, trofeo e leggende, tra le leggende bianconere e le leggende rossonere. Ovviamente l'ospite della serata, il protagonista principale è Alessandro Del Piero, una delle leggende, il numero 10 per eccellenza, e poi ci sono tutti gli altri giocatori, sempre ex giocatori delle squadre. Abbiamo per quanto riguarda la squadra bianconera, ovviamente Del Piero, Chimenti, di nuovo Torna Chimenti, Di Livio, Pepe e Ravanelli. Per la squadra rossonera abbiamo Amelia, Oddo, Ambrosini, Giunti e Brocchi. È una partita di calcio a 5, ci saranno anche delle novità direttamente quella sera lì, che non dicevamo prima, è una partita di calcio a 5, alle 8 e mezza presso il Palamaggetti, le porte apriranno alle ore 19. Volevamo inoltre e soprattutto ringraziare il supporto, ovviamente, del Comune e di tutti gli sponsor che hanno creduto in noi, che ci hanno dato una mano e che hanno permesso che questo sogno si potesse realizzare.